ok allora non ci credo di essere su fortnite vi giuro però come primo video del canale dato perché effettivamente ufficializzato effettivamente giocherò a fortnite e farò la reaction di tutto quello che c'è quindi e qui non è cambiato un assolutissimo cippa laboratorio della battaglia allora prima di andare a vedere tutte queste cacate piccola cosa se per caso vedete che sono arrivato però al livello 181 non è perché ad uno soggio che mi sfappo con un porco è semplicemente che mia sorella gioca tanto e dal mio account portocale non mi invitate dal mio account e perciò che ho da intero switch perché io da play ne ho già installato negozio oggetti tattico non è cambiato una certa bello io ho detto di giocare dalle dei primi giorni del son 2 perciò se sono scarso scusate scusate andiamo a vedere un attimo oh mio dio che cos'è questa roba che knock knock wow bellissimo allora parti reale accetta non mi fa cliccare figo non mi fa cliccare bellissimo va bene quindi posso fare solo laboratorio della latina no battaglia sono troppo abituato allo scorso bellissimo gioco e vediamo effettivamente che cosa ha da darci bellissimo questa schermata vedo che mia sorella condividi i miei gusti ragazzi ragazzi un po' il costivo vi giuro non mi sta piacendo allora questo dovrebbe seguirmi tutti io per il canale e spero di proseguirlo per tutta l'estate vediamo questo laboratorio della battaglia poi magari in una live o in un video a futuro potremo vedere un po' tutto tutta la volta con il mio prima live allora apriamo una mappa che cosa è successo apriamo una mappa vediamo differenze allora aspettate qua c'è un kraken tipo guardate allora che cos'è quel coso a parte fatto che prima nella lobby ho visto un timer mentre stava registrando e così mi piace sa forte dai perciò potete dire e non ho idea di cosa voglia dire spero che sia un evento credo che sia l'evento doomsday per me sono sicuro quindi la c'è tipo un kraken a pozzo mi ricordo è una località di schifo lo yacht c'è del pool quella del pool poi una skin qua ci sono le solite cose tipo smash ultimate no il mosso non si muove è una partita di tempo quindi qua abbiamo un adesivo made in cina perché esiste questa cosa e perché hanno messo del pool non è copia in teoria magari hanno fatto una colla ragazzi temi nei commenti se c'è stata una modalità speciale per del pool perché non mi sono capito più o meno mi dovrei ricordare così gioca madonna santi materiali che ti vengono in faccia quando riempi e al momento dovrei scritto come un 10 su 5 questo gioco rispetto a prima che per me ha anche 9 su 10 cioè volevo dire 3 su 10 rispetto al 9 su 10 che una volta per ora magari oh mio dio mag allora facciamo una cosa che dice un kraken che non si muove andiamo prima le cose smash smash 6 confirmed oh mio dio il cubo kevin non è ancora compasso da nessuna parte in l'agenzia che cosa ragazzi che cosa sono queste mine che tipo qua sotto c'è il cubo kevin secondo me e tipo si rompe all'isola e comincia a volare secondo me polco schifo quindi qua che cos'è quel corso è un'entità mi complessa dunque cosa questo corso vola seriamente ok oh mio dio che copertura ma il sistema oh mio dio posso mangiare che cos'è quel buco allora come si allora muovi giù le due e lo divide posso sparare tantissime no oh mio dio oh mio dio santissimo entriamo qua dentro e aia ok mi sa che non ha funzionato questo presentimento sai sapete che cosa c'è qua missione aia no questo questo nullo così è bellissimo questo aspettate nuova ship ma muori barche poi se me ne ricordo l'anno ma fate no fanno sempre schifo oh no oh no come si scende come si scende scende va bene vedo che non è cambiato chissà che il mio voto rimane 3 su 10 non so perché è colorato c'è proprio tanti bug magari un nuovo evento che voleremo insieme in live spero che sia un evento se per caso pensate che sia scatto scusatemi che non gioca da due mesi voglio un secondo scendere prima di chiudere perché sono troppo abituato a minecraft ehm come posso guardare in faccia ehm che vi posso dire vabbè allora balliamo oh mio dio electric shuffle grandissima oh no aspettate quindi c'è super caricato che che cosa è questa roba ok pensare a fare un movimento a vedere da un curso bello è tipo ci sono otto questo è carissimo me lo ricordo mia sorella è una persona orribile cioè raga il mio robot si stuola in dei modi orribili bello questo questo è figo questo fa caglia si sono nuove e nient'altro è poi il super caricato che conosciamo già tutti quindi pandorzo si esconde perché fa caglia ho spawnato tutti ah no chi è lui un bot ok ah sono i bot tipo quelli ma non sono alleati di solito mi guarda malissimo ma non posso sparare e madonna su quanto sono smircio non posso sparare va bene quindi mezzo pandorzo che è alleati io vi saluto ditemi che cosa ne pensate ditemi se volete altri video di questo genere io continuo a fare youtube perché si e ciao ciao